L'anno scorso sono qualificato per i mondiali under 20, ma per il Covid sono stati annullati. Ho fatto anche tanti anni di calcio, amo lo sport in generale, penso che sia una metafora della vita. Ok, buon lavoro più facile, appunto proprio un misto di metallo. Ho partito dall'alto, uno deve andare avanti e l'altro deve andare avanti. Ho partito dall'alto.